Sono scesi in strada e hanno rilevato il traffico pubblico e privato nell'ora di punta dalle 7.30 alle 8.30 del mattino per contare quanti cittadini utilizzano effettivamente il trasporto pubblico tra autobus e auto. Il comitato no rotaie di Volta Barozzo vuole dimostrare all'amministrazione Giordani che il tram non serve e che soprattutto le rotaie sono la scelta sbagliata. Effettivamente c'è una percentuale di copertura sull'autobus pieno sul 60-70%, quindi non sono pieni in questa fascia oraria. 1.200 persone ora, non i 2.500 preventivati dal dottor Lorenzoni. Secondo il comitato l'amministrazione deve ottenere dal ministero la possibilità di scegliere il mezzo più idoneo e quindi escludere la rotaia, considerata una ferita irreversibile, un progetto che non si può presentare in 90 giorni come chiede Roma. In 90 giorni non si può ripensare la viabilità di tutta questa zona di Padova, che non riguarda solo Volta Barozzo, ma riguarda veramente uno di, dopo l'Arcella, il quartiere più grande di Padova. Infine la questione biciclette e pedoni. Il comitato teme che venga cancellata la pista che attraversa il ponte. Ora consegneranno i risultati della rilevazione al comune, quindi attendono un dialogo e risposte chiare sul futuro. Molte persone, molte ma veramente molte, arrivano e raggiungono il posto di lavoro, raggiungono il centro, con la bicicletta a piedi, sia con i bambini, con i cani e quant'altro. Quindi togliere tutto questo tratto per noi diventa un grande disagio, anche perché non sapremo più dove andare con le bici a piedi.